Abbiamo creato presso la nostra struttura un punto di raccolta dove abbiamo raccolto tutto quello che secondo le indicazioni della Comunità Economica Europea serviva per l'emergenza e insieme ad un'altra misericordia, quella di Fiumicino, i nostri ragazzi sono partiti ed hanno consegnato ieri mattina direttamente a Varsavia quello che abbiamo raccolto. In particolare insieme al Comune di San Giovanni in Carico e insieme alle scuole del plesso di Aquino, Castrocelo e Roccasecca hanno inviato una serie di messaggi, di quaderni, colori, tante caramelle e cioccolatini. Volti provati quelli di Domenico, Beatrice, Lorenza, Susanna e Luciana ma non dalla stanchezza del viaggio ma dalla tanta, troppa sofferenza vissuta a Varsavia. Cosa avete trovato? Di ispirazione, siamo arrivati a Varsavia prima in un deposito, abbiamo lasciato tutti i beni, abbiamo scaricato tutti insieme il container con tutti i beni umanitari. Avete visto tanti profughi, avete percepito tanta sofferenza? Sì e spendere tutto questo tempo anche per strappare un solo sorriso a un bambino, ne basta veramente la pena. Siamo andate nella stazione dove alloggiano, dove i bambini stavano lì seduti ad aspettare in silenzio, con tanta umiltà a mamme e bambini, quando abbiamo dato caramelle e cioccolatini, che le mamme ringraziavano, poi l'ho guardata in faccia e dico, forse anche loro hanno bisogno di un po' di dolcezza, gli abbiamo dato caramelle e cioccolatini anche alle mamme, alle nonne che stavano lì, ai nonni. Abbiamo portato un tir carico delle donazioni raccolte nelle settimane precedenti, insieme alle donazioni raccolte dalla misericordia di Fiumicino. Erano di varissimo genere, dai medicinali, ai viveri, agli indumenti, alle coperte calde. E quando siamo arrivati lì abbiamo scoperto che effettivamente c'era assoluta necessità di tutto questo. Cosa ai tuoi occhi non dimenticheranno mai di questo viaggio? Ma in assoluto credo le facce delle mamme e dei bambini che appunto si trovavano lì e che dovevano attendere per recarsi nelle altre destinazioni. E quindi c'era la necessità anche da parte delle mamme, appunto dai loro volti si vedeva la necessità di intrattenere i bambini in questo momento di attesa e di stazionamento importante. Grazie. 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 Grazie.